Musica 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 E io sono in campagna elettorale, voglio vincere Ma bene E io Poul Musica 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 il che dice manco l'oguro nel fischio su quello che è il fischio che ce ne dicevo scadere a ricogliere i fischio non ne scelare a ricogliere i fischio non ne vanno a finirci nel fischio che io so penso che una parte dovevo caccelata e allora continui a essere una parte caccelata è una parte l'auto parte a noi fate unica unica cassa ascolta sabato scomigli e spieghiate un pochì di cose se la diamo a verare verso la nuova vabbè ora ti chiamavo panorii la sighera prende un po' l'accio è che fa un gassio chi si ma vedi che sta a fare la prima che dovevi fa il mio ilano guarda sei un po' racconto con l'erba e' un sede che esce la muppe cotena Nel 2012 ho ricevuto una serie di telefonate anonime e mi chiedevano soldi, successivamente qualche tempo dopo ho trovato una bottiglia di benzina davanti il negozio e avevano versato benzina sotto la sala cinesca. Qualche giorno dopo ancora mi hanno fatto trovare la colla nei lucchetti. Come si è comportato? Ho avuto paura e ho pagato. Ho pagato per paura, oggi non pagherei mai più.